bene ragazzi eccoci con un nuovo episodio di tales e allora prima di cominciare vi volevo avvisare che sono andata a cambiare le impostazioni assolutamente del joystick che non capisce niente così vi faccio vedere come l'ho fatto prima impostazioni ok allora io sto giocando la pressione per pc ok praticamente in battaglia adesso non esce scritto non esce registrato magari dopo faccio uno screenshot ho spostato il pulsante di attacco che sarebbe attacco normale praticamente lo metteva nella r1 l'ho spostato in b a posto del salto che l'ho spostato invece in r2 e la schivata che era in r2 l'ho messo in r1 ma vediamo se la cosa va meglio o meno se mi metterò uno screenshot dell'immagine così che abbiamo allora che devo fare questo legge veloce beh io non posso sconfiggere la mantide nella gola questo qui perché è troppo forte e mi fa il culo io non l'avevo già messo il vestito oh oh no 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 Grazie. Questa è la nuova mappa che sicuramente vi faccio vedere poi alla fine direttamente senza farvi perdere tempo in combattimenti vari. Vediamo dove ci porta qui. Ah, una zona chiusa, perfetto. Uh, si può pescare. Non posso fare niente, mannaggia. Ah, bel posto. Vabbè. Dovremmo ricordarcelo. Aspetta, qua si sale qua. Mmm, perfetto. Oh, ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. I'm surprised there are owls here, too. Yeah, there are more of them around than I thought. Ho, ho, ho. Now you'll learn! Mess with my friends, will you? You just crossed the wrong line! I'll have no way! Demon's tank! Scylla, it's him! Sonic thrust! Piers through! Hey! Hey! Damn it! Let's go! 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 non mi ha fatto salire a fare, non ci so niente non mi ha fatto salire non so se andare prima dalle altre parti, poi là non mi salvare semmai torno indietro ah ok, ce l'ha barricata davanti, quindi bisogna andare per forza lì dai, che ce la fai a salvare il doc? oh, sono riuscita a schivare take me easy non mi ha fatto Dona mia questo quando se la tira Ma è vecchio che deve fare Io ho capito che non voglio farvi la stessa vita che stiamo cercando Ma se ti aspettate troppo lungo Se ti aspettate troppo lungo E in effettivamente ti lo vedi Ho già conosciuto i crimsoni La gente che rischia la vita per combattere la regla di Renan La gente che conosce che non vivono per vedere venire Ma combattere in ogni modo per dare quelli che vengono una migliore chance Se mia vita è a rischio in ogni modo E io vorrei spettare la combattere Quindi hai deciso di prendere la scuola Si, ma non solo la scuola E' una scuola che solo io potrei prendere Ma una che è anche più potente usare E' una scuola che hanno combattuto i Renans in precedenza E' una scuola che avevano mai avuto qualcosa come questo E' per questo motivo mi dispiace di prendere tutto questo scuola E' una scuola che ho capito Ok, se è come se ti senti Non mi dimentichi cosa ho detto Adesso ti e quella scuola Sono le uniche cose capabili di portare i Renans E' pure lui che cambia idea dopo due secondi Se c'è una scuola di questo per tutti noi Doc, ora Ricordi di quello che hai detto E non mai abbandonare E quali sarebbero le sue convinzioni? E quali sarebbero le sue convinzioni? E quali sembra le sue immagrere? E quali sarebbero le sue nelle nostre non c'è un gufo è un peccato un gufo che se la tira ok niente il passaggio qua non si può fare dove va? qua è quella del dock torno non ti ho chiesto se stai bene come è andata la missione? qualcuno che mi ricorda chissà chi sarà ma questo deve avere l'approvazione di tutti per fare qualsiasi cosa ok una nuova missione io ho muovito se riesco a fare le missioni me le metto il risultato subito dopo attacco e stacco il video così vedete tutta l'altra fila ok eccolo qui il fabbro ok quindi la spada grezza mi manca il grano la spada lunga la posso fare i soldi ce ne ho proviamo ok vediamo quest'altro no di questa no non ce l'ho ok ah fatto subito perfetto perfetto che ci facciamo difesa ripristino pv non dici quante volte l'ho fatto una cosa rispetto a un'altra ah vedi questa no aumenta se lo fascio come vedi eh ah perché gli ho sviluppato un'abilità non mi ricordo ah questo lo fa ma si credi farò lo faccio farò a lui quindi Sean non ne può fare due facevo lo stacchetto non mi ha fatto niente vabbè altri che c'hanno qualche letterina da darmi non mi sembra che ci siano quindi altre missioni non ce ne stanno vado a quella principale ah no che c'ha vai abbiamo già forse le arti astrali non c'erano vabbè che fai Quindi, quello è il piano. Scommetto che noi ci mandi i perfetti nostri. E noi facciamo da cavia. E noi facciamo da scuola per distrattare al soldato. E noi facciamo da sembra come il vero. E' per quello che sarei taggati anche. E tu anche, Zephyr? Quindi, chi va a prendere a Balsef? La maschera. La maschera. Sto faccio a te e Shion per fare il tuo passaggio a dove Balsef sta scendendo. Una volta là, tu fai la scuola di fuori. Non ti senti davvero solo a questi due, no? Uno è Renan. Nessuno ha detto che il progetto era perfetto. Nessuno ha detto che il progetto è quello che ci saranno davanti. La storia di questa quest resta completamente nella vostra mano. C'è quello che tu hai la finalità. Ti chiedi, ora è il momento di dire così. E se noi diciamo no? Ma ora ci hai fatta tutta la pippa che ti vuoi unire, bla bla bla, e ora dici... Io non capisco questo. No, combatti, non rompere. Dici che c'hai paura di ammazzare qualcuno? Ah, la sua tizio gli devi... ...di convincere. Oh, grazie a Dio. Qualcuno che è deciso? Ah, quell'ascensore che non sono uscita a salire prima. Dobbiamo salire un ascensore, basta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a questa battaglia, la finalità di Renan. A tutti i nostri battagli, tutti. a tutti i nostri battagli. Ma sei tu che hai detto che non ci pensiamo? No. No. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo così mongoloidi. Abbiamo capito che dobbiamo prendere l'ascensura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo un gufetto. Grazie a tutti. 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 Tracchio a tutti. Grazie a tutti. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sì Ah, sta scenetta? Che senso ha? Uh Sì Siamo di qua Ho tolto un sacco di vita Sì Sì Non so che non lo dovrei fare, ma lo faccio? Vedi c'è una cassa Vediamo se ci torna utile Montiamo l'attacco Dobbiamo ritornare del lobo? Ma ho consumato il mio, voglio consumare il suo Vedi c'è una cassa Vedi c'è una cassa Vedi c'è una cassa Sto rimanendo senza niente Armatura addosso Ah, lei è un'altra Dobbiamo continuare a salire Speriamo che ci fanno mangiare Vedi c'è un'altra cassa 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 Oh, un'altra cassa Oh, un'altra abilità Oh, un'altra cassa Oh, un'altra cassa Oh, un'altra cassa Comun'altra cassa Preferisco completarli Oh, un'altra cassa Ricordarsi Ricordarsi queste cose Ricordarsi queste cose Non l'ho usata per niente lì Oh, un'altra cassa E sta lamentando dell'arredo Oh, un'altra cassa Ma chi l'ha raccontata Tutte e due Oh, un'altra cassa 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 Un'altra cassa Oh, un'altra cassa Ma Ah, l'avevo schivato Freddie e ha C'era e l'avevo schivato E no Grazie a tutti! Grazie a tutti! Sono fissati con ste cote? Ma perché mi fa rosso? E' al massimo! La gelatina la mira, per quello non me lo prende? Vediamocela così, almeno se la becco, non me la butto. Ci ho fatto caso. Mancano altre due stanze. I'm right behind you, Xi'an. I won't forgive you! Now you'll learn! Semen fang! Let the marksman handle this! It's over! Semen fang! Semen fang! Semen fang! Semen fang! Semen fang! Semen fang! It's over! Semen fang! Lo sfondamento non riesco a farlo, lo vogliono prima. Well then, let's keep moving! Facciamo l'ultima parte! E' qua mi sa che lo devo usare lui, eh? No! No, ce l'ho fatta! Speriamo che non ce l'ho basso dopo l'angolo! Sennò me li sono bruciati! 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 Io li sono bruciati! Il fuori sia perfetto, lo verbo! Il fuori sia perfetto! Che cosa sia questo? quindi lo devo fare lo vedi siamo ci faccio intorno non lo devo fare lo sono bruciato quello che avessi almeno il boss vabbè mi faccio un giro e non lo so perché non c'ho manco tanta vita ah questi sono flinti andiamo di qua ok lì carica ma no dove sapere almeno il livello consumiamoci tutti ma sì ma andiamo senza niente però sembra importante da rosso proviamolo danni fuoco e acqua meno 50 forse è meglio l'attacco allora santi io una bruva con quello ce lo faccio faccio così mo salvo io vedo qualche livello è c'è sotto dieci Vediamo questo che livello è Livello 13 Forse ce la faccio Non c'è un mozzo prima Punti deboli Non c'è un po' E' morto No Ma Mazzano l'ho ucciso Eh l'abbiamo fatto incazzare perché c'è poca vita Ma ti stai fermo due secondi come ti attacco Ok è ritornato normale Butta l'acido Wow Ah, ho schifato! Ok, ce l'abbiamo fatta. Piore astrale. 10 punti, più 10 massimo. E' buono! Ma lo devo usare sto oggetto? Consumabili. Materiale. Armi. Matura. No, niente. Quindi l'ha fatto di base sua. Ok, posso ritornare dove ero prima. Ok. Ah, ho vido di tipo. Ok. Ok. Ehi. Di quello che ha fatto, va? No! Ci leviamo. I devi evaporare ai miei digni! Cari! Va andare! Hè! Ehi! Diamo! Ho riuscito a avvicinarmi Allora, stiamo senza niente Siamo arrivati Ok, beh, meno male Non l'ha mai visto, come fa a conoscerlo? Ok, stiamo lontani Ok, stiamo lontano Ok, stiamo lontano Ok, stiamo lontano Ok, lui ha 15 Che fa questo? Pazzo Capisco il gatto che fa Ok, stiamo lontano Oh, che devo fare? Assalto il boss speciale Lui mi aprimi rapidamente la direzione corrispondente per attivare la boss e il personaggio Ribartare le situazioni Vabbè Non lo faccio, dai Ok, stiamo lontano Ok, stiamo lontano Non sto scherzando Non sto scherzando Ce l'ho fatta Ok, stiamo lontano Ok, stiamo lontano Ok, stiamo lontano Andato? Stiamo combattendo. Che fai? E' uscita una scala. Ando va? Sta scappando. Uno specchio, uno specchio. Mi voglio vedere. Ah, sta andando a prendere il nucleo. Se non è completo lo vuoi prendere? Ma io di niente. Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma come? Non lo so. Secondo me ti fa fuori. Ma il giovane ti fa fuori. Ma che vuole? Ma vabbè, come è? Uno di 14, uno di 34. Ma che è? Non si, aspetta. Questo da dove va? Il destra? Eeeem. Eh. Eeeh. Eeeem. 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 A meno che non è la storia proprio che la devi far ricaricare. No. Lo potevi attaccare. Perfetto. E io quello sopra non l'ho proprio cagato. Beh, meglio così. Eeeem. 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 a mangio a mangio la devi assorbire? no se lo stavo mangiando si assorbito pure lui capito tutto dopo gli serve un braccio di ricambio ah ok ha distrutto il muro, il cangello che cos'era mi sta piacendo e magari aiuti questo anguromo se ne è accorta lo sapevi pure prima va bene riparti dalla sigla dopo dovrò bloccare di nuovo la sigla la sigla la sigla la sigla la sigla l'Ontario la sigla l'Ontario la sigla Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wakey-wakey, sunshine. About time, too. A week? You mean that whole time I was... How cold? You've got him on the ropes. While you've been getting your beauty sleep, most of the remaining Renans have either surrendered or fled. You slaying Balcef was the catalyst we'd been waiting for. Thanks to you, Kalagli is finally free. You have my gratitude. We couldn't have done it without you. I just did what anyone would have done. Iron Ma... Forgive me, Alfin. It's good to finally see who I'm speaking to. Half of them, anyway. So... If you like telling us who you used to be, I... I wish I could. Agora? Perché non lo dice? Oh, no. Sì. Ma forse che lei lo sa, che gli datano ai mezzi venti. Primo. Sì Sì Quindi questo ce l'ho di automatico Incrementa la via Questa me la devo fare 900 fra un po' Pure questo me lo devo fare Faccio prima questo Quindi lì Non è uscito niente Aspetto Guardi a livello 11 Ancora qualche missione I wonder if something happened That blazing swords turned out to be even stronger than I With that much sheer power Elemental types are hardly a concern anymore You can bring practically any foe down to their knees in a Don't count on me being able to pull off another gates of fire That only happened because I had the help of that spirit Still You did defeat Balsif with it Which means it can also take down the other lords That's it Besides If it was any stronger Your body wouldn't be able to handle it Have you forgotten what happened after we finished off? No But aren't you scared of having that much power inside of you? Why would I be? Power provides opportunity You don't expect me to simply throw it away No, I get it It's a good ace to have up our sleeve, that's for sure What? I'll respond to this I'll respond to this I'll respond abiti costosi non ce li ho abiti costosi non ce li ho ma lo devo trovare io o lo trovi da solo lo devo trovare da solo mi sembra vabbè andiamo all'allocando no 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 bene avevo già materiale quindi l'ho completata subito vado è stupido quindi niente a me andre sta a locanda bene 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 vale ma la faccio ma questa è una gombia intanto è più bassa di quella che ha io avevo questa l'ho tolta ma questa è una gombia ma questa è è che li fulmina forse è è una dichiarazione d'amora in ogni caso i'm just glad now let's go check out those i'm just glad sono riuscito a capire dove andare penso mamma mia è una tragedia per fare una cosa qua queste mappe proprio non si capisce niente non si capisce niente Oh no. E cado un altro gufo? Ah, l'occhio è abbendato, questo. Quindi, dopo passeremo di qua? Non riuscirò a capire come passare di qua. E stai usando anche tu, però non ti fa schifo usarla. No? 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 Certo. 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 Siamo a vedere solo se qua si è deciso di indossare degli ambiti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Ciao.